Questa politica, ad esempio, prima il nostro viceministro diceva abbiamo tassato le banche. Sì, le banche sono state tassate con retroattività, quindi è molto probabile che la Corte Costituzionale bocci questo elemento. E quindi si fa bella figura, le banche non ci rimettono niente, chi è fottuto è sempre il popolo. Sugli estraprofitti, ad esempio, lo sapete che questo governo, se fosse stato il centrosinistra, non ha tolto gli estraprofitti alle fabbriche di armamenti e alle fabbriche farmaceutiche, che sono i due pilastri della grande finanza internazionale oggi. Come mai? Come mai? Lo chiediamo al viceministro. Viceministro, non siamo riusciti ad alleggerire nemmeno con questa sopopera dell'estate di cui tutti stanno parlando, ma indipendentemente da questo io la faccio rispondere a Marco Rizzo. No, guardi, non ho le sue opinioni, che è più scurizzo. Credo che però su una cosa abbia ragione. A volte la politica può fare dei danni inennarrabili. Io quest'oggi leggevo delle interviste in cui qualcuno delle istituzioni locali emiliano-romagnola diceva «Ah, c'è stata una crisi di turismo in Riviera». Per forza c'è stata una crisi di turismo in Riviera-romagnola. Se per due mesi tu racconti, mentendo, che c'è una regione abbandonata dal governo, in ginocchio, disastrata, secondo te questo attrae turismo? Mi venirebbe a avere anche un pochino di sali in zucca nel dire certe cose, soprattutto perché quegli imprenditori dopo dieci giorni si erano rialzati e l'offerta turistica era pronta. Quindi quello che dice Rizzo è anche vero. Se la politica a volte non si rende conto che per strumentalizzare e polemizzare poi crea dei danni a chi deve elaborare lamboccando sulla manica, cosa che magari questa gente non ha mai fatto, è una politica cieca. Ed è il motivo per il quale poi dopo sorprende che si cospargano il capo di cena dicendo «Ah, c'è stato un calo del turismo in Romagna». Se invece di disegnare un quadro fosco e falso avessi dato una mano, un sostegno in imprenditoria turistica in Romagna, forse oggi, e lo dico dopo Ferragosto, forse oggi non saremmo a questo punto.